Preventivo è budget finanziario, quindi come un bilancio di esercizio, molto simile a un bilancio di esercizio come quello che hai visto magari nel corso di contabilità, ma a preventivo. Cioè se il bilancio di esercizio ci dice risultati a fine anno, il budget ci programma quelli dell'anno successivo. Andando poi a confrontare il budget con il bilancio di esercizio, possiamo effettivamente verificare se abbiamo raggiunto gli obiettivi. Andiamo adesso a vedere i budget operativi o settoriali. Ce ne sono diversi, ci concentreremo su quelli più importanti all'interno dell'azienda, che sono il budget delle vendite, il budget di produzione e il budget di acquisti di materie prime. Per ogni budget, per ogni budget operativo o settoriale, si devono programmare valori di costo di ricavo riferibili a ciascuna area attraverso programmi, cioè prima prevediamo le quantità e poi il budget, cioè valorizziamo in euro i programmi. Che cosa significa tutto questo? Significa che nella redazione di un budget operativo, prima facciamo un programma in quantità, quindi quanto vendiamo, quanto dobbiamo produrre, quante materie prime necessitiamo e dopodiché le valorizziamo in euro. Cioè quanto ricaviamo, quanto ci costa produrre, quanto ci costano le materie prime. Quindi per ogni budget operativo avremo un programma in quantità e un budget in euro. Questo è uno schema generale di un budget, cioè tutti i vari micro budget, che poi vanno a consolidarsi nel budget globale o nel master budget. Come vedi ci sono tantissimi budget operativi, se ne possono fare veramente tanti, a seconda che si facciano coincidere con le aree aziendali, con le funzioni, con i centri di responsabilità, veramente tanti. Partiamo dal budget delle vendite, come ti dicevo è il punto di partenza. È il punto di partenza nella creazione dei budget settoriali e di conseguenza del master budget. Perché? Perché dal budget delle vendite, come poi vedremo operativamente negli esercizi, discenderanno tutti gli altri budget operativi. Molto semplicemente l'obiettivo del budget delle vendite è stimare le quantità da vendere il prossimo anno e il relativo prezzo di vendita. Per questa ragione si fa ampio uso di strumenti di marketing ed analisi di mercato. Quindi il budget delle vendite si occupa di stimare le quantità da vendere e i relativi ricavi, quindi quantità, prezzo, ricavi, per un periodo successivo. È il punto di partenza, è quello che si basa più di tutti su stime e ipotesi, perché appunto essendo il primo non ha delle discendenze precedenti, non ha dei punti di partenza precedenti, e fa uso di leve di marketing. Per stimare le vendite, per stimare quanto andrò a vendere, dovrò fare uso dei classici strumenti di analisi di mercato. Quindi, quando andremo a fare un budget delle vendite, si fa molto ricorso all'area di marketing. Una volta che ho stimato quantità, prezzi e quindi ricavi di vendita, potrò poi andare a fare tutti gli altri budget. Sicuramente tra i budget operativi il budget delle vendite è il più semplice, perché si basa su dei dati che ci fornisce l'area marketing, che devono solamente essere in qualche modo sistemati, e lo vedremo poi nell'esercizio. Infatti, le variabili considerate nel budget delle vendite sono il volume, quindi le quantità, il prezzo e l'eventuale mix produttivo. Fattori che possono influenzare queste variabili, il listino prezzo, qualora rientri nella prassi commerciale, ed eventuale politica degli sconti. Molto semplicemente, un budget delle vendite si compone delle quantità che poi, moltiplicate per il prezzo unitario, ci daranno i ricavi delle vendite per il periodo considerato. Molto, molto semplicemente. Passiamo al budget di produzione. Il budget di produzione ha come obiettivo quello di programmare le quantità da produrre, dei vari prodotti, nei diversi periodi dell'anno. E in qualche modo programmare anche i costi da sostenere per ottenere i volume di produzione programmati. Quindi, se il budget delle vendite ci dice quanto andremo a vendere nel periodo successivo, il budget di produzione ci dice quanto andremo a produrre nel periodo successivo, e quanto ci costerà produrre per il periodo successivo. Il budget della produzione è influenzato chiaramente da alcune variabili. Sicuramente ci dice la quantità da produrre, ma bisogna tenere in considerazione le scorte dei prodotti finiti e i costi di produzione. Perché facciamo questa specifica? Perché la quantità da produrre è diretta conseguenza delle quantità da vendere, che abbiamo già stimato nel budget delle vendite, e della politica delle scorte. Per questo motivo il budget delle vendite è il punto di partenza. Perché? Senza quello non possiamo fare, per esempio, il budget di produzione, che è quello che stiamo vedendo adesso. Per fare un budget di produzione, per sapere quanto devo produrre, devo conoscere il mio budget delle vendite, devo sapere quanto ipotizzo di vendere. E quindi per fare un budget di produzione abbiamo bisogno delle quantità da vendere, quindi del budget delle vendite, e della politica delle scorte. Perché? Prima di decidere quanto produrre, devo verificare se ho qualcosa in magazzino. Perché è chiaro che se avessi delle rimanenze di magazzino, potrei produrre meno rispetto a quello che effettivamente devo andare a vendere. Perché ho già delle scorte di magazzino. Quindi il programma di produzione, il budget di produzione, ha come variabili principali la quantità da vendere, che è il punto di partenza, e la politica delle scorte di magazzino. Ciao, scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando, ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via, buona continuazione, ciao! Infatti, per andare a calcolare il volume di produzione programmato, cioè il programma di produzione, partiamo dalle vendite, che come ti dicevo andiamo a prendere dal budget delle vendite, sommiamo le rimanenze finali di prodotto, programmate, e sottraiamo le rimanenze iniziali di prodotto, stimate. Quindi volume di vendita, più rimanenze finali, meno rimanenze iniziali, mi dà il programma di produzione, o il volume di produzione programmato. Quindi, in questo modo, ho stimato quanto dovrò produrre per il periodo successivo. E se voglio sapere quanto mi costerà, quindi avere un valore di budget espresso in euro, molto semplicemente dovrò andare a moltiplicare il programma di produzione, cioè quello che abbiamo appena visto, il volume di produzione, per il costo standard. Il costo standard non è altro che lo standard unitario fisico, cioè il consumo unitario di quel prodotto, per il prezzo unitario di produzione. Quantità da produrre. Per il costo standard mi dà il budget di produzione, cioè facendo così non solo ho programmato in quantità, ma ho valorizzato in euro quanto mi costa produrre. Ultimo budget operativo è il budget degli acquisti di materie prime. Il budget degli acquisti di materie prime ha come obiettivo quello di andare a stimare quante materie prime devo andare a comprare e quanto mi costeranno. Dopo il budget di produzione segue la programmazione degli acquisti e quindi il budget degli acquisti di materie prime. Si programmano quantità di materie prime da acquistare e il relativo costo. Come ti dicevo prima, c'è una catena di dipendenze tra i vari budget operativi. Senza il budget della produzione io non potrò fare il budget degli acquisti di materie prime, perché se non so quanti beni, quanti prodotti devo andare a creare, a produrre, non potrò mai stimare quante materie prime mi servono per produrre quel prodotto, per produrre quel bene. E quindi per fare il budget degli acquisti di materie prime devo aver già fatto il budget di produzione. Nel passaggio dal volume di produzione, quindi dal budget di produzione, alla quantità di materie da acquistare, occorre tenere in considerazione il fabbisogno. Chiaramente devo conoscere di quante materie prime ha bisogno un prodotto. E quindi dovrò fare il volume di produzione per il consumo, o lo standard unitario fisico, di materie prime. E mi calcolerò così il fabbisogno, cioè quanto ogni prodotto consuma di materie prime. In questo caso, con il volume di produzione, sapremo quanto tutti i prodotti consumano di materie prime. Il fabbisogno è importante perché dobbiamo tenere in considerazione che potremmo avere delle scorte di materie prime. Quindi prima di andare a programmare quante materie prime devo andare ad acquistare, vado a verificare se per caso ho delle materie prime in magazzino. Perché se avessi delle materie prime in magazzino, chiaramente ne acquisterei di meno rispetto a quelle che mi servono. Ed è quello che ci dice il testo. È necessario capire se ci sono delle scorte di materie prime in magazzino prima di comprendere quante noi dobbiamo acquistare. E quindi per andare a calcolare un programma degli acquisti, quindi le quantità da acquistare, parto dal fabbisogno, che come ti ho detto si calcola dal volume di produzione, quindi programma di produzione per consumo unitario di materie prime o standard, sommo le rimanenze finali di materie prime e sottrago le rimanenze iniziali di materie prime. Fabbisogno più rimanenze finali, meno rimanenze iniziali, mi dà la quantità di materie da acquistare. E ho il programma degli acquisti. Se voglio avere il budget degli acquisti, quindi andare a valorizzarlo in euro, semplicemente moltiplico la quantità da acquistare per il prezzo standard delle mie materie prime. E facendo così, ho fatto il budget degli acquisti. Quindi ricapitolando, parto dal budget delle vendite, i cui dati mi vengono forniti dall'area marketing, quindi quantità da vendere, prezzo unitario, quantità per prezzo unitario, ricavi delle vendite per il periodo successivo. Ho stimato quanto vendo? Quanto devo produrre? Il punto di partenza è chiaramente le vendite, sono chiaramente le vendite. Ma devo andare a capire se per caso ho dei prodotti in magazzino. E quindi per fare il programma di produzione, il budget di produzione, parto dalle vendite, sommo le rimanenze finali di prodotti e sottrago le rimanenze iniziali. E mi troverò il programma di produzione. Moltiplicando questo per il prezzo standard, avrò il budget di produzione. Perché come ti dicevo, ogni budget si compone dalla parte dei programmi in quantità e il budget in euro. Terzo budget operativo, una volta che ho capito quanto devo produrre, ho bisogno di capire quante materie prime devo acquistare per poter avviare la produzione. E quindi parto sempre dal budget di produzione per questa catena di dipendenza. E quindi quanto devo produrre? Lo moltiplico per lo standard per il consumo unitario di materie prime per trovare il fabbisogno di materie prime. Cioè in generale per produrre tot prodotti mi servono tot materie prime. Ma attenzione, anche in questo caso mi devo chiedere Aspetta, prima di comprare ho qualcosa in magazzino? E quindi fa bisogno più rimanenze finali di magazzino o meno rimanenze iniziali mi troverò la quantità di materie prime da acquistare. Il programma degli acquisti moltiplicato per il prezzo delle materie prime avrò il budget degli acquisti. Spero che sia stato tutto chiaro. Ci vedremo poi nel prossimo corso in cui ti farò vedere degli esercizi applicativi su questi tre budget operativi che ti chiariranno ulteriormente le idee. E per ora ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bene, questa è solamente la prima parte del corso che abbiamo creato. Abbiamo deciso di pubblicarla per comunque darti del valore gratuito e darti delle informazioni che ti possano servire. Se vuoi il corso completo ti ho lasciato sotto il link basta cliccare andrai nella nostra piattaforma e-learning e lì troverai il videocorso completo. Ciao!